Intanto è la prima esperienza di riconversione di energie fisiche e mentali nel giro di pochi giorni, quindi dovremo farlo rapidamente, l'abbiamo fatto rapidamente, ieri è stata una giornata fondamentalmente di rigenerazione fisica, oggi di preparazione alla partita. Ci sono pochi punti da toccare, devi cercare di concentrare la preparazione alla gara in pochi argomenti perché non è possibile farlo come faresti in una settimana normale e altrettanto accadrà fra la partita di mercoledì e la partita di domenica. Secondo me giochiamo una partita complicata, secondo me loro sono una squadra ben allenata, una squadra in fiducia, viene da due partite ben giocate, una persa in volata in casa contro Scafati e una vinta bene a Barcellona, togliendosi di dosso la scimmia delle cinque sconfitte consecutive, quindi sarà un bel test, un test anche emotivamente significativo perché troveremo gente che con la menzana ha avuto a che fare davvero, l'allenatore Alessandro Magro, ma anche giocatori come Alessandro Cappelletti, e come Antonio Iannuzzi, quindi ci saranno anche degli aspetti emotivi particolari e credo che anche questi faranno parte del sale della gara. Grazie. 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 Grazie.